A Sutirol perché preferisco il campo, perché preferisco gli avversari, ritengo un filo meno ostico il Sutirol che la Crovercelli. Semplicemente per il fatto che quando siamo andati su eravamo debilitati in 10 su 20, quindi sicuramente abbiamo qualcosa da chiedere in più a quella partita di Crovercelli, sappiamo che è un'ottima formazione e il campo soprattutto loro è un campo davvero stranissimo perché non è un sintetico, è un tappeto di cemento, quindi è davvero stranissimo e ci abbiamo messo un tempo all'andare. Chiaro, il campo non era bello. Sì, però è vero, non era bello, però è in erba, nel senso il rimbalzo, il controllo sono diversi. Che dire? Come ti aspetti? Ma innanzitutto scusi, volevo dire sul punto che noi stiamo lavorando bene, abbiamo lavorato bene come squadra, come gruppo, come staff tutto l'anno, evidentemente dovrebbero lavorare bene anche gli altri perché sennò è difficile, no? Quando vince la squadra vince dal magazziniere al presidente e noi penso che gli obiettivi che ci avevamo posti li abbiamo rispettati. Se la società, chi sta lavorando, compie errori quantomeno banali come questo di perdere un punto in questo modo, evidentemente c'è da lavorare anche su di loro e non solo sulla squadra. Come me li aspetto? Me li aspetto come noi, nel senso che siamo i play-off, tutti vogliono vincere, quindi di certo non mi aspetto una squadra tendista, è una squadra che gioca bene a calcio, che ha fatto del loro campo un fortino, quindi sarà una sfida alla pari, vedremo.